Un saluto e benvenuti a questa edizione del Tg della mobilità. Mercoledì dalle 18 allo Stadio Olimpico si giocano i quarti di finale di Coppa Italia con il derby tra Lazio e Roma. Nell'area dello stadio è previsto il consueto piano di viabilità e sosta che include anche temporanei chiusure al traffico nelle fasi di afflusso e deflusso delle due tifoserie. L'area del Foritalico, lo ricordiamo, è servita dal tram 2 che viaggia tra piazzale Flaminio dove c'è la coincidenza con la stazione Flaminio della metro A e piazza Mancini e da 17 linee di bus in arrivo dai diversi quartieri cittadini.